Siamo giunti alla terza volta, come sta andando? Siamo già alla terza evoluzione della macchina, abbiamo già riportato ovviamente delle modifiche al software, modifiche al sistema per la ripresa, abbiamo inserito una fotocamera all'interno della macchina per poter fare anche le immagini dei cavalli e ovviamente stiamo preparando anche nuove evoluzioni sia nel software che nella sensibilità dell'apparecchio. Quindi foto all'iride e foto anche al cavallo? Foto al cavallo, possibilità di fare anche ovviamente le immagini del cavallo per identificarlo da un punto di vista proprio visivo, quindi un pazzetto fotografico dell'animale, la possibilità di inserire tutti i dati dell'animale, proprietà, allenatore, tutto quello che si vuole. Questo può essere un po' il futuro, dal leadership passato? Questo si spera, stiamo lavorando per quello, sicuramente è un sistema che guarda molto avanti, semplifica molta burocrazia, ha la sicurezza dell'identificazione, sono tutte cose che sicuramente agevolano il lavoro di identificazione del cavallo. In Italia a dire che lavori ha riscontrato parere positivo? Ha riscontrato parere positivo su tutti, ovviamente bisogna fare la pratica, bisogna sistemare quelle piccole cose che in tutti i sistemi nuovi possono avere magari delle piccole situazioni da migliorare, come tutti gli apparecchi elettronici.